Eva Grimaldi, 55 anni, e Emma Battaglia, 57, sono sempre più unite e felici. Secondo i rumor degli ultimi giorni la coppia avrebbe deciso di convolare a nozze. In attesa di conferme o smentite, si sono godute una serata mondana a Roma. Eva e Emma hanno cenato insieme ad alcuni amici arrivati da Verona. La coppia non si è voluta perdere l'evento a Periver da Marmo, a San Lorenzo, dove è andato in scena il concerto dei Diana Lu, il duo divenuto famoso dopo la partecipazione all'ultima edizione di X Factor. La Grimaldi e la Battaglia hanno scelto l'appuntamento dalle sfumature Arcobaleno per trascorrere una serata in allegria e ascoltare buona musica. Nel ristorante anche Anna Pettinelli, 60 anni, insieme al compagno 42N Stefano Macchi.